test doppia registrazione htc desairai per techtutorial.it io sono cristian colombo e vediamo come gira i filmati questo device abbiamo questa future della doppia registrazione davvero molto carina molto per qualcuno sarà molto utile per altri magari no però a me mi sembra molto bello i video li gira comunque dalla camera frontali gira davvero molto bene vi ricordo che abbiamo una 13 megapixel di fronte e anche la 13 megapixel sul retro che però secondo me li gira un pochino peggio dei normali full hd comunque tutti sono registrati in hd andiamo a fare un pan veloce proviamo lo zoom fino 4 perché si può fare solo dalla cam posteriore torniamo indietro andiamo che comunque la stabilizzazione buona adesso andiamo a fare una messa a fuoco sulla macro per vedere come si comporta ok ha qualche leggero scatto guardate comunque qualche problemino di messa a fuoco però per il resto mi sembra che giri video davvero ottimi soprattutto dalla cam frontale che veramente molto molto performante ragazzi oggi per oggi vi saluto ci vediamo alla prossima un saluto da cristian colombopertektutorial.it